Un numero, cosa hai fatto? A me, guarda a me A me li devi registrare Oggi pomeriggio sono stato invitato senza preavviso dal dottore Donatio all'ufficio della DNA di Roma di cui sono stato oggetto di pressione di pressione psicologica di cui mi è stato obbligato da parte del dottore Donatio ad accusare delle persone che io non conosco Dopo la mia audizione ho sottoscritto le mie dichiarazioni e il dottore Donatio mi ha obbligato di consegnare a lui delle fotografie della persona di Giovanni Aiello e di una certa Antonella di Catanzaro mi ha detto di mettere queste foto che non esistono dentro le buste di cui portano l'intestazione della DNA che è sottofirmata da me io sto mettendo dentro le buste una mia dichiarazione di cui attesto che il dottore Donatio riceve tali fotografie che non esistono e alcuni fogli di macchina fotocopiatrice per far capire al servizio centrale che giù che dentro queste buste ci sono dei documenti importanti invece non c'è niente è tutta una bufala riprendi qua sto mettendo questi fogli dentro questa busta dentro questa busta sta riprendendo dentro questa busta e vi devo insegnare ai notti ai notti che sono sotto casa che mi stanno aspettando che il dottore Bonattio ha mandato stasera stesso al ritiro di queste fotografie fantasma io li sto sigillando li riviuto dentro un'altra busta grazie 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 è vero ci stranze e scrivo il numero 43 scrivo il numero 43, scrivo il numero 43, scrivo il numero 43